Un'intera zona del centro di Sanremo stamani è rimasta per circa tre ore senza acqua. L'interruzione si è resa necessaria per consentire i lavori di riparazione della tubatura dell'acquedotto a Maie, rimasta danneggiata dopo i lavori di asfaltatura in via San Francesco. Sembrerebbe infatti che siano state le oscillazioni emesse dai macchinari per la scarificazione dell'asfalto a provocare il danno. L'acqua fuoriuscita aveva lagato anche la vicina piazza Colombo. Alcuni esercizi pubblici stamani hanno quindi chiuso i locali agli utenti poiché in difficoltà senza l'approvvigionamento idrico, mentre le famiglie della zona non sono state avvisate dell'interruzione del servizio idrico, rimanendo quindi a secco. La perdita dell'acqua era stata subito notata proprio nella zona interessata da qualche giorno da uno dei molti interventi per il rifacimento degli asfalti e l'altra notte la ditta che si sta occupando dei lavori ha operato proprio in via San Francesco. Ora restano da capire anche le intenzioni del comune matuziano. Se voglia rifarsi sulla ditta incaricata dei lavori in via del tutto preventiva, poiché questi non sarebbero stati eseguiti correttamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.